Buonasera ai nostri telespettatori, non c'è tema più attuale del conflitto in Medio Oriente, non c'è argomento più attuale che l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio avesse potuto scegliere per una serie di eventi legati appunto al Medio Oriente, tra storia, politica e informazione che accenderanno i riflettori su quanto è avvenuto nella storia, su quanto sta avvenendo nel presente come cronaca purtroppo sempre più sanguinosa di questo conflitto e anche come scenari di politica e di diritto internazionale, oltre che naturalmente geografici perché ci sono anche confini che cambiano nell'ambito di pochi avanzamenti o poche retrocessioni a seconda di quella che sta realizzando come invasione di terra israele in Libano. Di tutto ciò si è parlato e si continuerà a parlare perché il primo degli eventi c'è stato proprio il 7 di ottobre, il primo anniversario dell'episodio che poi portò all'escalation del conflitto, grazie all'iniziativa dell'Università, in particolare del professor Trinchese che noi salutiamo e ringraziamo, Stefano Trinchese di Ordinario, buonasera, di Storia Contemporanea dell'Università Gabriele D'Annunzio, anche di tutta la facoltà e anche di un nuovo corso di laurea che debutta proprio in occasione di questo focus, ecco perché parliamo di una serie di eventi, non soltanto il primo che è stato molto interessante e partecipato. Naturalmente, professore, lei può introdurre meglio di me qual è stato soprattutto lo spirito di questa iniziativa che ha portato e acceso i riflettori sul Medio Oriente da parte di tutta la comunità dell'Annunzio, ma anche con interventi di profilo nazionale e internazionale. Bene, io ringrazio per questa possibilità che Rete8 ci offre come università e vorrei appunto esprimere la motivazione e le condizioni anche in cui matura questa nostra iniziativa che come lei ben diceva è all'interno di un discorso storico di fronte ai veti reciproci che dappertutto ascoltiamo sui media, nei centri culturali, nell'opinione pubblica, non ultimo nelle università. E quando io ho sentito nella nostra, come in altre università, che ci si cominciava a schierare, cioè a ragione l'una o l'altra parte, è bene colpire l'una o l'altra parte, è bene boicottare l'una o l'altra parte, perché le università anche partecipano a questo gioco perverso dei veti reciproci e delle condanne reciproche, e cioè non rinnoviamo le convenzioni con le università israeliane nel caso, noi abbiamo una convenzione attiva con l'università israeliana, ma molte università hanno fatto il contrario, non rinnoviamo convenzioni con le università del mondo arabo. Ecco, io allora ho preso la parola in questo consesso e ho detto, scusate se parlo da storico, così come dico ai vostri telespettatori, la storia non si schiera, e allora piuttosto che esprimere condanne o prendere parte a schieramenti, è bene che per i nostri giovani e comunque per un pubblico anche più vasto, si parli di ragioni al plurale, di motivazioni, di cause, di discorsi storici che il presentismo non ci lascia vedere, così imperante nei social, e che invece la storia forse può contribuire a spiegare. Allora ho detto, insieme a Paola Pizzo, che da anni collabora con me ed è docente di storia dei paesi islamici, una specialista del Medio Oriente, proponiamo delle giornate di studio, tra l'altro nell'ambito, come lei ricordava, di un nuovo corso di studi che da quest'anno l'adannunzio si è dotata ed è il corso di laurea in storia e archivistica per gli studenti già triennalisti, per la magistrale, quindi studenti già maturi. Allora a questi studenti maturi, ad un pubblico evidentemente desideroso di conoscere, la risposta dell'adannunzio con il rettore, con il prorettore, con tutto lo staff al comando, è stata quella di dare fiducia al progetto di un vecchio storiografo, e cioè quello di riproporre il dialogo. Riproporre il dialogo in che modo? Attraverso la conoscenza, promuovere la conoscenza, proporre tre incontri, abbiamo pensato, uno si è già svolto, come diceva il direttore, lunedì scorso e ha visto la partecipazione mia, della professoressa Pizzo, della professoressa Diana di Lingue, che è una specialista di mondo arabo, prendendo e portando le ragioni dei palestinesi, del mondo arabo, dell'Islam, ma anche degli ebrei e dell'ebraismo, in senso più lato. Quindi conoscere, proporre conoscenza, non fornire nozioni, non dare interpretazioni, non schierarsi, ma portare elementi di riflessione, perché ognuno possa farsi poi la sua idea. Io dico sempre che non devo convincere nessuno, però vorrei proporre a tutti elementi per cui possano esprimere una loro convinzione. Questa vicenda del conflitto in Medio Oriente è proprio, diciamo, il coltello nella piaga delle debolezze e delle grandezze della storia contemporanea, professore, perché la storia contemporanea ha di per sé la grande difficoltà di non poter appunto storicizzare fatti che stanno avvenendo in queste ore, in questi giorni, però la grande ricchezza della storia contemporanea è quella di potersi interfacciare, per esempio, con il diritto internazionale, con la comunicazione, con altre frontiere che rendono probabilmente più vivo il lavoro dello storico e anche, diciamo, lo studio di ragazzi che si approvvigionano su fonti che non sono libri, ma sono anche i telegiornali. Certamente. Io ho iniziato ieri il mio corso di storia contemporanea, ho l'aula piena, ho quasi 200 studenti, a questi ragazzi desiderosi di sapere, ho portato un esempio che è un esempio classico, non è mio, è del grande Marc Bloch, che è un grandissimo storico degli anni 30, non l'ha detto nemmeno oggi, ma l'altro ieri, negli anni 30, queste che per me sono veramente delle grandi lezioni, quelle di Marc Bloch. Quella principale è precisamente questa. Noi guardiamo il presente e pensiamo che il passato ce lo possa spiegare. Invece il grande storico francese ci spiega che è il presente che ci porta a capire il passato. Cioè la conoscenza storica si esprime a ritroso, all'indietro. È come su quei vecchi registratori, chi è più anziano e capelli bianchi come me se li ricorda, dove c'era un tasto per tornare indietro e la voce del nastro che si riavvolgeva era incomprensibile. Ecco, la storia è quella, è quella incomprensibilità, ma è proprio dalle drammatiche e altrimenti incomprensibili vicende del presente che noi risaliamo indietro, stimolate da queste. E quindi noi cerchiamo di proporre una lettura, certamente insieme agli antropologi, ai sociologi, ai giuristi, per capire come queste tragiche vicende si siano potute evitare per secoli e come l'attualità non significhi necessariamente accettare che il concetto della guerra è l'unica soluzione possibile. Perché non dirò i media, o non solo i media e non tutti naturalmente, ma i social soprattutto ci propongono continuamente questa possibilità di schierarci, da una parte c'è il bene e da una parte c'è il male e ciascuno dice che il male sta dall'altra parte e ci si accusa reciprocamente. Ecco, tutto questo nel presente avviene sotto gli occhi di tutti, i bombardamenti, le stragi, le morti dei bambini ma anche dei grandi e questo ci fa orrore. Ma non è l'unica soluzione possibile. Nel passato, e questo ci illumina un po', e se volete ne parliamo così per strassi. Sì, perché dal passato noi dobbiamo, perché della contemporaneità parliamo quotidianamente del passato, che magari si può aprire una speranza verso una pace oggi in Medio Oriente. Questa vicenda del Medio Oriente nasce precisamente nel 1946-48, quando si decide di creare uno Stato israeliano. Il 1948 è già comunque occasione di una guerra, di una guerra feroce con gli arabi, vinta rapidamente da Israele. Nel 1967 ne abbiamo un'altra, quindi ne abbiamo diverse. Questo però è il tempo storico breve, è la nostra miope osservazione di un periodo che a memoria ricordiamo. In realtà la storia è più lunga, perché già nella Prima Guerra Mondiale gli inglesi e un po' i francesi si erano messi d'accordo per creare uno Stato palestinese. Ma io vorrei avere un'osservazione più ampia, di lunga durata, e cioè guardare ai secoli precedenti. Mi rendo conto che è uno sforzo inattuale, ma per 500-600 anni, in tutta la dimensione dell'attuale Medio Oriente, ma di tutto il Levante, direi di tutto il Mediterraneo, dunque di tutta l'area ampia del Sud Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente, ebrei e musulmani in generale, arabi o turchi che fossero, quindi Islam e Israele, hanno coesistito, sono stati collegati da traffici, da commerci, dalla cultura, dallo scambio, ogni tanto se le davano anche di santa ragione, ma mai con delle guerre, se non risaliamo addirittura prima alle crociate. Quindi per 500-600 anni c'è un ordine e a quell'ordine noi possiamo tornare indietro. Ma anche più recentemente, professore, se ci fossero oggi Perez e Arafat e quel clima in cui anche l'Italia aveva un ruolo diplomatico nel Mediterraneo, insomma di grande prestigio riconosciuto come rilevante, probabilmente saremo di fronte a questo scenario di guerra? Forse no, forse in storia non ci sono, lo storico non prevede, ma certamente sarebbe una situazione diversa. Penso anche a grandi politici italiani, Sturzo, De Gasperi, Fanfani, Craxi, stiamo andando nel tempo in epoche diverse, tutti a dire che il sud del Mediterraneo e quindi il Medio Oriente è Europa, è la proiezione dell'europeismo pacifista, pacificatore, convivente. Poi dopo l'Europa è diventato un club per ricchi, per nazioni del nord, ha escluso completamente la rotta meridionale, ha visto nei migranti un pericolo e tutto questo ha portato ad un'esasperazione anche nella politica attuale di odi e di contrapposizioni. Però io poi se mi consente vorrei tornare su quei 600 anni di storia perché c'è un piccolo elemento che vorrei mettere in evidenza, che il pubblico non conosce ma che può essere interessante. Sì, e ci chiudiamo. Abbiamo due minuti, lo raccontiamo. Allora, c'è un istituto che non è traducibile, che si chiama Millet, lo potremmo tradurre con nazione diasporica, cioè era un luogo invisibile dove ciascuno potesse autoamministrarsi. Questo avviene durante i 600 anni di storia dell'impero ottomano. E lì ognuno aveva, gli ebrei, gli armeni, gli arabi, quindi i musulmani, i greci, i romioi, che erano gli occidentali, coloro che venivano da Roma, avevano il luogo dove potersi confrontare. Ognuno aveva all'interno di questo istituto, il tribunale, la scuola, tant'è che ognuno parlava la sua lingua e la sua religione. Questa coesistenza che era garantita dall'antico ordine dell'impero ottomano è andata perduta con la prima guerra mondiale, ma ha funzionato nei 600 anni prima. Quindi se per 600 anni hanno potuto coesistere, convivere, mantenere le proprie lingue, le proprie religioni. E allora queste etnie potrebbero continuare ad esistere insieme, a coesistere. E' l'odio nazionale che poi è arrivato con la prima guerra mondiale, con il 900, che ancora aizza con i suoi fantasmi queste diversità. Ma queste diversità hanno coesistito per un tempo lungo, non dico un millennio, ma quasi. Ecco, allora nessuno naturalmente vuole la restaurazione di quell'antico ordine, ma certo di quegli istituti in cui si coesisteva, in cui si commerciava, in cui si parlava, in cui ci si trovava la sera a prendere un tè o a bere qualcosa insieme, forse si potrebbero riproporre. Cioè non è solo la guerra, la coesistenza c'è stata, c'è stata a lungo e noi se facciamo cultura dobbiamo guardare a quello, non possiamo dire ci schieriamo con l'uno o con l'altro o contro l'uno. A maggior ragione le università. A maggior ragione le università, esattamente. Quello è il luogo del confronto e noi dobbiamo promuoverlo. E queste giornate, ne abbiamo due a novembre, con illustri specialisti che parleranno naturalmente anche del presente, io parlo spesso del passato, ma il passato ci aiuta a comprendere. Grazie, grazie al professor Stefano Trinchese per questa gradevolissima conversazione, anche per aver acceso una luce diversa rispetto alle notizie che quotidianamente comunichiamo e che sono sempre notizie poco rassicuranti, per non dire altro, sul Medio Oriente. Grazie ancora e buona serata.